Buongiorno a tutti, io sono Michelangelo Berti, in parte che mi occupo del coordinamento dell'attività di marketing comunicativo operativo. Come va detto il buon Marco, siamo il partner di riferimento in Italia per tutta una serie di attività, intanto su MySQL e anche su altre attività del mondo Oracle. Da questo momento in poi parleremo principalmente di Oracle OpenStack e di quello che possiamo fare assieme a MySQL Enterprise Edition. In particolare il tema sarà il database as a service, un tema che oggi avrete sentito molte volte in vari eventi, oggi andremo a vedere un caso specifico d'uso. Nel pomeriggio io adesso vi farò una panoramica del progetto OpenStack, poi cerchiamo di capire un po' come lo conoscete e quanto lo conoscete. Nel pomeriggio il mio collega Daniele invece vi mostrerà, farà qualche approfondimento e ve lo mostrerà in azione, quindi vi farà capire quanto è semplice realizzare alcune cose e in quanti casi d'uso possono essere utilizzati. Allora, conosciamo rapidamente chi è PAPEC, per chi già non la conoscesse. Noi siamo un software infrastructure system integrator che ormai da oltre 15 anni, sia su Roma che su Milano, offriamo dei servizi professionali altamente qualificati su vari fronti. Il mondo Oracle è uno di questi ma non è nulla. In più creiamo delle soluzioni cross market, dal mondo delle telco alle finance e così via, innovative almeno dal nostro punto di vista e tipicamente basate su tecnologie open source, quindi l'integrazione di tecnologie open source e promuoviamo da sempre anche l'adozione di standard e protocolli aperti. Questo perché siamo convinti che quello che si può creare, il valore che si può dare su tecnologie aperte, sia superiore a quello che invece si può fare su tecnologie chiuse, spesso legacy. Il nostro rapporto con Oracle è iniziato sin dall'acquisizione di Sun Microsystem, ma in realtà noi, come Business Unit di Roma, nasciamo come braccio armato di Sun Microsystem, quindi già nel 1994 l'azienda lavorava assieme. Questo rapporto è proseguito dopo l'acquisizione del 2010. Ci siamo specializzati su tante altre tecnologie Oracle, in particolare i database, quindi Oracle Database e MySQL. Ad oggi il nostro rapporto è quello che potete vedere qua. Siamo un Oracle Gold Partner con specializzazione su MySQL 5. Quindi per qualunque cosa, dai servizi professionali, la system integration e così via, copriamo tutta quella fetta di mercato. I nostri clienti, per capire rapidamente su chi operiamo, sono variegati. Questa qui è una lista non esaustiva che include aziende importanti nel mondo delle telco, molti gruppi bancari, quindi il mondo finance, ma c'è un po' di tutto, c'è anche il public sector, ci sono dei system integrator, dei large system integrator con i quali collaboriamo per portare soluzioni avanzate, complesse, presso vari clienti. Passiamo dunque a OpenStack. Intanto, prima domanda, conoscete OpenStack? Per alzata di mano. Chi conosce già OpenStack? Pochissimi. Chi di voi lo utilizza già? In azienda? In due? Mamma mia. Beh, è ottima questa cosa qua, quindi sarà utile questa sessione per molti di voi per iniziare a conoscerlo. È un tema che vi chiederebbe almeno una giornata, se non di più, per poterlo iniziare a capire. Cerchiamo di condensare il tutto e poi per qualunque domanda siamo a vostra disposizione, oggi è anche in separata sede. Partiamo da che cos'è OpenStack? È una piattaforma software che consente di creare dei private e public infrastructure as a service, quindi dei cloud. Che vuol dire infrastructure as a service? Vuol dire avere della capacità computazionale di rete, storage e così via, quindi a livello infrastruttura, on demand, quando ne ho bisogno, senza dover necessariamente andare a riapprovvigionare dell'hardware con tutte le conseguenze che ci sono, quindi la messa in data center, la configurazione e così via. Quindi vi aiuta, vi semplifica a fare questo. On top potete sempre metterci altri oggetti per fare il salto dall'infrastructure al platform as a service, quindi andare sempre più in alto nella catena applicativa fino al software. Per fugare subito qualunque dubbio vi dico che cosa non è OpenStack sicuramente. OpenStack anche se usa la virtualizzazione non è l'ennesima piattaforma di virtualizzazione, quindi chi vi dirà che domani potete installarlo e buttare Overt, Oracle VM, Rev, VMware e mettere OpenStack vi sta dicendo una fesseria. Possono essere affiancate, possono essere sostituite per alcuni tipi di workload e andremo a vedere cosa, ma non c'è un rapporto 1 a 1, non c'è una mappatura totale tra i due sistemi. Altra cosa che anche se integra una serie di moduli di gestione che poi vedremo come può essere interfacciata in maniera anche molto semplice, non è un cloud management platform, quindi di base non vi astrae rispetto a ciò che c'è sotto, non vi abilita immediatamente a creare un ability cloud. Avrete bisogno di altri strumenti, questo vi aiuterà, ma non è sufficiente per fare tutto a 360 gradi. Nasce tipicamente per workload particolari, per workload di tipo cloud, quindi se avete delle applicazioni, dei sistemi che servono per workload tradizionali, facciamo un esempio, avete i back-end della posta elettronica, quelli non sono pensati, almeno nelle versioni attuali, non sono pensati per essere messi su OpenStack. Avreste più problemi nel metterli lì che vantaggi, quindi ogni tipo di cosa va vista caso per caso. Le origini di OpenStack sono abbastanza recenti, è nato nel 2010 da un progetto congiunto di due importanti enti. Il primo è la NASA, ne avrete già sentito parlare, mandano la gente sulla Luna già da 50 anni, più o meno, nulla di che. Avevano una grande capacità computazionale, tanti server anche datati, erano ognuno per conto suo, non andavano bene per la virtualizzazione moderna e non andavano bene presi singolarmente. Non sapevano che farci. La NASA ha bisogno di tanta capacità di calcolo da distribuire. Hanno iniziato a lavorare al modulo Nova, che è il primo modulo di OpenStack, che serviva a permettere tutta questa capacità computazionale a fattore comune, non nell'ottica di un computer grid, quindi non in tal senso, non è che 10 CPU diventano una sola CPU molto grossa, ma nel senso che potevano utilizzarle e gestirle come se fossero un unico grande sistema da partizionare di volta in volta. La seconda azienda che è all'origine di OpenStack è Rackspace Hosting, che all'epoca voleva realizzare un servizio di object storage, quindi per metterci il file dentro, alla Dropbox per capirci, che emulasse quello che facevano gli Amazon Web Services con il servizio S3. Quindi volevano realizzare questa cosa qua. E da lì è nato il primo modulo Swift, quindi Nova e Swift, che risentirete anche dopo, sono i primi moduli di OpenStack. Molte persone, quando si parla di Progetto OpenSource, pensano che siano dei giochini fatti per i laboratori o fatti per chi si vuole avventurare in roba un po' discutibile. Per farvi capire, questo giochino sono più di 20 milioni di righe di codice. Coinvolge quasi 600 aziende in tutto il mondo e la quantità di sviluppatori mostruosa, sia sviluppatori provenienti dalle aziende, ma anche sviluppatori indipendenti, semplici appassionati, che dedicano il loro tempo al progetto. Secondo Giuseppe Paternò, il nostro amico e candidato fino a poco tempo fa al board dell'OpenStack Foundation, OpenStack è, dopo il cambio Linux, il progetto open source più grande al mondo. I numeri lo dimostrano. Vi dicevo, OpenStack Foundation, che cos'è? È un'organizzazione che racchiude tutte le aziende e gli sviluppatori che portano avanti il progetto. È composta da una serie di aziende. I platinum members sono gli 8 aziende residenti che rappresentano in qualche modo il consiglio di amministrazione, lo steering committee. Oltre a fornire supporto economico e operativo con i propri sviluppatori, con la propria capacità di fuoco, definiscono le linee guida strategiche del progetto. Ci sono poi i gold members, che sono 24 aziende, neanche essere residenti, cambiano mi pare anno dopo anno, vengono rielette. E anche loro, anche se a livello diverso, portano avanti una serie di iniziative e contribuiscono alla fondazione a vario titolo, economico e così via. Poi ci sono i corporate sponsors, che questa qui ovviamente, sia nel primo caso o nel secondo, non è una lista esaustiva. Poi nelle slide troverete il link per poter andare a vedere la lista. Sono tutti pubblicati sul sito di OpenStack. Ci sono una pletola di aziende, sono circa 500, sono principalmente vendor hardware e software di tecnologia che contribuiscono a vario titolo al progetto. Questi signori lo fanno per vari motivi. Il primo perché, essendo uno dei progetti più importanti a livello comunitario, tutti vogliono farne parte. Il secondo è che tutti quanti hanno bisogno, hanno la volontà di rendere i propri software, il proprio hardware compatibile con OpenStack. Facciamo un esempio banale. Cisco sta tra i gold members e è stata una delle prime a fornire dei moduli specifici per OpenStack, per il software defined network. Quindi, agganciati Cisco Nexus con gli appositi plug-in al vostro OpenStack, sostituite il modulo nativo e praticamente avrete tutte le funzioni di network virtualization. Come vi dicevo, è nato nel 2010. È una storia breve ma molto intensa, perché inizialmente i tempi di rilascio, la cadenza di rilascio era trimestrale. Ogni trimestre c'era un evento dedicato al mondo OpenStack e veniva rilasciata una major release. Questa cosa qua era piuttosto complicata da seguire per i clienti e spesso portava anche a delle parziali riscritture del codice. Questa cosa qua è stata dalla versione Havana aggiustata. Siamo passati a una cadenza semestrale e nell'arco di poco tempo siamo arrivati e vanno in ordine alfabetico le versioni, lo vedete, la prima lettera, siamo già alla N, quindi siamo a una versione abbastanza avanzata. Negli ultimi anni c'è stato un boost sullo sviluppo, non solo dei moduli core, della maturità dei moduli core, ma anche dal punto di vista dei moduli opzionali, perché questo contributo fortissimo dato dagli sponsor e dato da tutti gli sviluppatori, da tutti i sottoprogetti che sono nati nel frattempo, hanno portato a una letra di moduli opzionali, che si appoggiano sempre ai moduli core, ma ci danno tanto valore aggiunto. Dopo andremo a vedere alcuni di questi, Daniele ve ne mostrerà due in particolare, anzi ve ne mostrerà uno in particolare in funzione e vedrete quanto ci semplifica la vita in tanti casi d'uso. Per capirci, qua quando trovate il nome delle componenti non è un caso, perché OpenStack di fatto non è un unico progetto, è un'ombrella project. Sotto appunto questo ombrello troverete almeno una ventina di progetti, ognuno legato al bravo modulo, con il suo team di sviluppo, il team leader e così via. Qual è l'obiettivo che si pone di fatto OpenStack, oltre, come vi ho detto, a farvi creare un public o private infrastructure service? L'obiettivo è ereditato da quello iniziale della NASA e dell'Express Hosting. amministrare, gestire grandissime capacità computazionali, di storage, di rete, in un modo molto semplice. Tipicamente tre. Attraverso un'interfaccia web-based, orientata anche all'utente finale, quindi molto semplice, dove io in modalità self-service posso andare a dire voglio queste macchine così, così, le premo un tasto e partono. Oppure attraverso API restful, cioè chiamate dei post HTTP molto banali, che possono essere chiamati da una o più applicazioni, consumati da delle applicazioni, e quindi io posso automatizzare tutta una serie di operazioni senza che vi venga richiesto un intervento umano. Terzo modo per accedere, la classica command line interface, che tanto piace ai nostri amministratori, la userebbero per qualunque cosa. Io ho dei colleghi che la usano anche per leggere la posta elettronica, quindi per farvi capire come stiamo messi. L'architettura, si vede un po' male sul proiettore, mi dispiace, è molto banale. Abbiamo le applicazioni in alto, queste qua, o attraverso le API, parlano con i tre moduli core, compute, networking e storage. A questi si agganciano i servizi condivisi di OpenStack. Come dicevo si tratta spesso di servizi opzionali, di cui potremo anche fare a meno, ma che ci danno del valore aggiunto. Tutto questo sta tipicamente appoggiato a una distribuzione Linux supportata. Ormai quasi tutte le distribuzioni Linux lo supportano, da ora con Linux, Red Hat, Ubuntu, Fedora, quello che vi pare, ditene una, la troverete compatibile. E tutto si poggia su hardware standard x86, hardware commodity. E non è come per dire prendete un server nuovo x86, ma anche un vecchio serveraccio. Ci sono tantissime aziende che hanno iniziato a fare incetta di vecchi server mezzo abbandonati sul mercato, su eBay, dovunque li togliate, e inzeppare il data center di questi server per riutilizzarli e dargli una nuova vita. Tutte le componenti possono essere racchiuse, dal mio punto di vista, in cinque macro tipologie. Abbiamo Compute, che è il cuore dell'infrastruttura. Networking. Abbiamo le diverse tipologie di storage. Daniele Pomeriggio vi farà un approfondimento su questi tipi di storage. Abbiamo la dashboard, quindi l'interfaccia web per accedere e fruire di tutti i contenuti. E infine abbiamo la pletola di servizi condivisi. Questa è un'altra rappresentazione molto semplice. Come vedete si parte dall'hardware commodity, abbiamo le distribuzioni Linux, le tre macro componenti core, poi la dashboard e i componenti condivisi. Vediamoli rapidamente. Nova, come vi dicevo, è il modulo che è nato dal progetto originario della NASA. È praticamente il modulo che si pone come obiettivo quello di offrire capacità computazionale e soprattutto di offrire i moduli per gestirla. Usa come default l'hypervisor KeyVM, che è quello più utilizzato, oltre che più performante, ma più utilizzato nel mondo Linux, ma è agnostico da questo punto di vista rispetto all'hypervisor, perché può usare Microsoft IPv, può agganciarsi attraverso gli appositi driver a VMware SX, quindi come vi dicevo possono poi esistere, non c'è una guerra tra le due fazioni, può utilizzare Linux containers, anche Docker, quindi anziché far partire istanze e far partire container, e attraverso un modulo che si chiama Eronic può far partire nuove macchine, può deployare a sua volta nuovi hypervisor. È come quando nel film Terminator Skynet costruiva altri robot, quindi robot che costruiscono robot, la stessa cosa, il concetto di base è quello. La parte Neutron invece è la componente che gestisce tutta la rete virtualizzata, sia a livello 2 per far parlare le macchine tra di loro, che a livello 3 per parlare anche verso il mondo esterno. Offre cosa? Offre di tutto, dal banale di HCP, gestione degli IP virtuali, gestione degli IP statici, al firewall as a service, basato ovviamente su IP tables, allo balancer as a service e così via. Sono nati poi una serie di altri moduli che si agganciano a Neutron e offrono DNS as a service, eccetera. Praticamente solo con questo software potreste risolvere tutte le esigenze di un data center di dimensioni modeste. Ovviamente supportando OpenFlow può agganciarsi a tutti quegli strumenti offerti da vendor che sono sponsor del progetto e hanno rilasciato dei driver, degli apparati adatti. Pensiamo ai Cisco Nexus, gli Alcatel Nuage, i bilanciatori di F5 e BPP, si possono agganciare nativamente a OpenStack e voi attraverso Dashboard, Horizon, attraverso l'API, attraverso la linea di comando potete pilotare tutti questi oggetti. Quindi voi potete gestire l'intere infrastrutture in questo modo. Ci sono tre tipologie di storage che incontriamo. Abbiamo il block storage, che altro non è che sono i classici volumi a blocchi, che di solito ci rendono esportati via NFS, ISCASI, una Sun in Federal Channel e così via. Può utilizzare come back-end un software defined storage di qualità di nuova generazione, GlastroFS, SEF e così via. oppure può agganciarsi a degli storage array tradizionali che magari supportano già OpenStack e offrono già i moduli nativi. Quindi potremmo avere un IBM StoreWise, per esempio, che si aggancia direttamente a OpenStack. L'Object Storage, come vi dicevo, è una delle eredità del primo core di progetto OpenStack realizzato dall'Expace Hosting e portato avanti oggi da una comunità ben più ampia. Serve appunto per fornire spazio su oggetti tipo file. Quindi potrebbero essere i file MP3 utilizzati da Pandora, da Spotify, per darvi il servizio musicale. Potrebbero essere i film che vedete su Netflix. Potrebbero essere tranquillamente le bollette emesse da AC Energia per tutti i propri utenti e posizionate lì sopra, anziché su un più costoso volume classico. Daniele vi spiegherà quali sono i pro e i contro e quali sono i tipici casi d'uso di ognuno di questi oggetti. Abbiamo poi il servizio per la gestione delle immagini. Alcuni lo mettono nei servizi condivisi. Io lo preferisco mettere qua perché comunque sia è un frontend per lo storage. Tutto ciò che sono le immagini, i template che userete per creare nuove istanze, rivengono interfacciati da questo. Risiederanno comunque su Swift, ma vengono interfacciati da Glens. Anche gli snapshot, i backup che farete di quelle macchine finiranno lì. Perché? Perché sono dati non strutturati e il loro posto è quello. Horizon, come vi dicevo, è la dashboard. È l'oggetto che vi consente di accedere attraverso un'interfaccia web veramente banale. Daniele vi farà vedere una panoramica di come funziona. È veramente a prova di scemo. Fidatevi perché è veramente bella. E vi consente di fare una serie di cose. Horizon si basa sulle API di OpenStack. Perciò non succederà mai che qualcosa che fate di Horizon non la potete replicare a livello applicativo o magari anche da linea di comando. Anzi, piuttosto avrete un subset di quelle funzioni. A livello applicativo potete fare sempre di più di quello che fate attraverso un'interfaccia web. Infatti anche i moduli che si agganciano a Horizon a volte nelle liste successive iniziano a dare funzionalità un pochino più robuste di interfaccia web. Rapidamente i servizi condivisi. Keystone è ciò che offre l'identity management condivisa tutta la piattaforma. Può diventare, può essere autoconsistente con un database locale, può interfacciarsi a un directory tipo l'ed up o a una Microsoft Active Directory come Backend. Quindi poi avete grande libertà di scelta e vi consentirà anche di gestire i vari token di accesso alle istanze, quindi le chiavi per l'SSH e così via. IT come modulo di OpenStack è uno di quelli dal mio punto di vista più interessanti. Perché? Perché consente di andare oltre la singola istanza. Tipicamente che succede? Uno va sul sistema e lancia una nuova istanza. Ma è una. Se io devo lanciare l'intero ambiente di sviluppo per il mio team perché sta nascendo un nuovo progetto, quello magari vi chiede di frontend, di backend e così via e devo perdere tempo a lanciarle tutte. Se invece quella cosa succede periodicamente mi creo uno stack, come si chiama, un template IT con certe caratteristiche che include tutto. Include non solo quali istanze lanciare, include la rete, le regole firewall, include il load balancing as a service, include un sacco di roba. Con un solo clic faccio partire il deployment dell'intero ambiente. Per quello dal mio punto di vista è estremamente interessante. E ottiene il massimo agganciato a Silometer, il sistema di monitoraggio. Facciamo un esempio concreto. Avete il vostro sito che in momenti specifici dell'anno hanno dei picchi. Amazon, nei periodi del Black Friday o nel periodo di Natale, avrà dei picchi di accesso mostruosi. Allora che succede? Possono passare la giornata a guardare i pallotti su un monitor e capire quando aggiungono le macchine? Oppure ci aggancia un servizio tipo Silometer. Che fa? Questo qui va a monitorare lo stato del carico delle applicazioni dei sistemi e possiamo dirgli, automaticamente quando supera certe soglie, gli far crescere la fisarmonica l'applicazione. Parla con IT, IT deploy a nuove macchine. Gestisco il picco, temporaneamente. Quando l'applicazione non è più sotto stress, facciamo un'operazione inversa. Ristringiamo tutto. Così anziché essere dimensionati o sempre troppo poco o sempre per il picco, sprecando risorse e ottenendo risultati discutibili in termini di performance, mi muovo in maniera elastica, che è uno degli aspetti fondamentali dei cloud, siano essi privati o pubblici, è indifferente. Trove, qualcuno di voi l'ha già sentito nominare? Alzate la mano. Tre, dai, anche stavolta è andata bene. Trove è uno dei moduli, diciamo, più famosi, ultimamente diventati più famosi per OpenStack, che offre il database e service. Quindi consente di lanciare delle istanze, delle macchine virtualizzate, che hanno già a bordo un DBMS di vario tipo, SQL e NoSQL, ce ne sono vari supportati, e erogare all'interno della piattaforma il DBMS, quindi le componenti di back-end per le vostre applicazioni. Non è l'unico modo per farlo questo. Non è neanche necessariamente il migliore. Ci sono dei pro e dei contro come in ogni cosa. Daniele vi mostrerà quali sono questi pro e questi contro e vi farà vedere anche un altro caso d'uso, che è Murano. Murano è un application catalog. Di fatto che cosa vi consente di fare? Di partire da un semplice insieme di applicazioni, vostre o fornite da terze parti, con un drag and drop, tirarle dentro l'infrastruttura e rilasciare ambienti complessi. Quanto complessi lo vedrete dopo con Daniele. Quindi potrete rilasciare anche dei database. Mentre magari con Trovo avete certe limitazioni, con Murano riuscite a superarle. Troverete altri aspetti riguardanti la gestione. Vedrete con Daniele. OpenStack, come vi dicevo, è nato con degli obiettivi. Nel corso del tempo poi un po' lo steering committee, un po' le comunità di sviluppo hanno preso delle direzioni particolari. Sono andati a porsi un obiettivo, emulare gli Amazon Web Services e offrire una soluzione analoga per il private cloud. Quindi avere l'equivalente degli AWS dentro casa mia. Quanti di voi li usano gli AWS? Li hanno usati? Li usano? Però siete veramente impreparati oggi. Siete terribili? No, fate gli scherzi. Se usate nel modo giusto offrono grandi opportunità e grandi soddisfazioni. Se li usate nel modo sbagliate odierete il cloud. Se notate c'è una mappatura quasi uno a uno tra i vari servizi. Questo perché? Perché nel corso del tempo hanno iniziato a emularli. Non solo per renderli simili, ma anche perché effettivamente avevano un sacco di funzionalità. La cosa interessante è che nel corso del tempo le API di OpenStack sono diventate perfettamente compatibili con quelle di Amazon. Perciò se voi avevate delle applicazioni, delle logiche di orchestration che valevano per uno, le potete portare direttamente dentro l'altro senza perdere niente. Qua io ho riportato solo alcuni dei moduli, ce ne sono una pletora. Andatevi a vedere, divertitevi e trovate le varie differenze tra i vari moduli. Sarò pedante, lo so, ve l'ho già detto, non è virtualizzazione tradizionale. Lo ribadisco. Lo ribadisco perché a volte, nonostante l'opera di evangelizzazione spinta che fanno i vari vendor, che noi sistemi integrator facciamo, vengo interrogato da qualcuno che mi dice ah ma rispetto a VMware come sono i costi? Lo posso togliere? Posso portare i miei servizi là? Il dente batte? La lingua batte dove il dente vuole. Quindi io continuo a ribadire questa cosa qua. Per fare questo ragionamento bisogna partire da workload. Quando parlo di workload tradizionale cloud, parlo di questa tabella qua. Nel mondo tradizionale voi ragionate, noi tutti ragioniamo principalmente sui server. Abbiamo un rapporto quasi uno a uno tra certe applicazioni e i server che sottendono a quell'applicazione. Questi server quindi assumono un'importanza smisurata. Appena c'è un problema tutti sulla palla a fare troubleshooting, a fare patching, a fare aggiornamento dei sistemi, a fare di tutto. Vengono curati con una passione smisurata e con un costo smisurato. Le piattaforme di virtualizzazione, vista l'importanza di questi server, hanno introdotto delle funzionalità molto interessanti per l'H. Ad esempio se l'hypervisor casca, automaticamente quelle macchine vengono rifatte ripartire su un altro hypervisor. O quando c'è un sbilanciamento di carico di risorse tra più hypervisor, vengono ribilanciate per garantire la performance data. E così via. Questa cosa qua perché? Perché l'importanza del server è la priorità. L'applicazione viene dopo. Nel workload di tipo cloud enable invece è tutto app centrico. Per noi l'importante è che l'app sia disponibile e performante è secondo gli SLA che abbiamo definito. Quanti server stanno sotto? Come performano questi server è molto meno importante. Perché lasciamo che sia l'infrastructure as a service a occuparsi di questi sistemi. Quindi abbiamo tante macchine piccole e stateless. Stateless significa che hanno capacità di intelligenza ma non capacità di memoria. Perciò queste macchine nascono e muoiono senza perdere dei dati, tipicamente. I dati di cui abbiamo bisogno stanno su uno storage persistente. Daniele vi farà un focus su questo tipo di storage perché è uno dei punti dove moltissimi cascano malamente. Non c'è più bisogno, basandosi su questo concetto, non c'è più bisogno di logiche di HAA troppo spinte. Potrete sempre fare la live migration e attività simili tra un hypervisor e l'altro per poter in qualche modo fare manutenzione sugli hypervisor. Ma non sarà necessario che siano le hypervisor a fare tutte queste manovre. Perché se casca un hypervisor che sta facendo girare 10 istanze non c'è problema, le possiamo tranquillamente lasciar morire. Ci mettiamo molto a meno tempo a farle ripartire in automatico con hit, con silo meter, con tutti i moduli, con tutte le funzionalità che ci vengono date. Che cercare di andare a fare troubleshooting su quelle che sono morte. Ok? Da questo punto di vista l'applicazione è elastica. Quindi è lei stessa che se sviluppate, quindi se è predisposta per OpenStack, farà in modo di autogestirsi sia nel numero di macchine che devono sottendere a quell'applicazione, sia nel tipo di macchine che lo devono fare. Qualcuno più sveglio di me ha fatto un esempio interessantissimo, confrontando i due tipi di workload. Quello tradizionale, server centrico, viene paragonato agli animali domestici. Ogni animale domestico ha un nome, lo conosciamo personalmente, lo curiamo quando sta male o se sta morendo magari. Ce ne occupiamo personalmente. Questo qua è di tipo workload tradizionale. Nel mondo OpenStack, nel mondo cloud enabled, abbiamo gli animali da fattoria. Non ne abbiamo uno, due, tre. Ne abbiamo una quantità enorme. Tutti concettualmente uguali. Poi mi dicono che i fattori in genere riescono a riconoscere anche le simboli bestie. Questi hanno come nome, non il classico nome Fido, Ciccio, Bau, quello che volete, Pluto. Hanno un'etichetta attaccata all'orecchio con un codice. Non a caso su OpenStack, se voi non date un nome specifico alle macchine, troverete un codice esadicimale lungo così. Perché non interessa sapere il nome della macchina. Quella magari nasce e muore nel giro di un'ora. Quindi non è importante conoscerla singolarmente. Queste qua tipicamente sono workload di tipo cloud enabled. Quindi su OpenStack abituatevi a trovare queste bestiacci qua da fattoria e non gli animali domestici che avete in casa. Visto così sembra tutto facile e bello. Abbiamo diviso il mondo in due fazioni, in due insiemi molto diversi, ma in realtà non gira così il fumo. Noi a casa nostra abbiamo le macchine che sottendono un workload tradizionale, magari VMware, magari una serie di macchine con hypervisor KVM, Oracle VM, Overti, Red Hat Enterprise Virtualization e così via. E abbiamo creato una nostra isola con macchine x86 commodity che erogano OpenStack. Quindi tutte quelle con workload tradizionale da una parte e quelle con workload cloud enabled dall'altra. Ma se io avessi un workload misto, come faccio a gestirlo? Quindi potrei avere i frontend della mia applicazione che sono di tipo cloud e i backend sono di tipo tradizionale. Divento pazzo, come faccio? Molti suggeriscono di utilizzare un cloud management platform. Quindi un ulteriore strato software che crea un livello di astrazione che vi consente molto più semplicemente di deployare un'applicazione e poi saranno le logiche sottostanti a dire cosa deve andare dove. Quindi i backend magari rimando da una parte e frontend dall'altra. Facendo in modo che ogni oggetto, ogni tipologia di oggetto sfrutti bene le capacità della piattaforma. Quindi evitiamo di ficcare la formina del triangolo dentro il buco del quadrato, come facevano i bambini. facciamo che ogni formina vada nel suo buco, senza privilegiarne una o l'altra. Ognuno al suo posto. A questo punto posso veramente parlare di private cloud. Perché siamo onesti, avere una bella piattaforma virtualizzata non è un private cloud. Il private cloud è un'altra cosa. Richiede una serie di cose, l'attivazione on demand, l'elasticità, il pay to use, nel caso un private cloud e così via. Cose che una piattaforma virtualizzata non vi dà nativamente. Una volta fatto questo possiamo lanciare il cuolo oltre l'ostacolo. Perché se dobbiamo lanciare una nuova applicazione, è vero che lo fa in automatico OpenStack, se opportunamente è configurato. Ma quando la capacità computazionale finisce, finisce, dovete comunque approvvigionare nuove macchine. A questo punto chi vi impedisce di usare anche un cloud pubblico. Perché? Abbiamo detto che tra l'altro le API sono compatibili, sfruttiamolo. Quindi potresti usare gli Amazon Web Services, Oracle Cloud e così via. A questo punto avete un vero e proprio hybrid cloud. Questa cosa qua non è fantascienza. La usò la Pixar quando doveva lanciare Toy Story 2. Non so quanti di due conoscono questa storiella. Ormai è diventata una favoletta per le persone dell'ambiente. Praticamente negli Stati Uniti dovevano lanciare Toy Story 2. Avevano una data di lancio, di rilascio nelle sale. Stavano facendo il rendering ed erano mostruosamente in ritardo. Non sarebbero mai arrivati in tempo nelle sale. Avevano bisogno di nuova capacità computazionale. Se avessero dovuto approvvigionare nuovo hardware, software, configurarlo, metterlo in data center, l'avrebbero finita dopo mesi. Hanno utilizzato un cloud pubblico, agganciato, messe la capacità computazionale a fattore comune. Hanno ridotto drasticamente i tempi di rendering. Sono andati in rilascio in tempo sulle sale. Non avevano più bisogno di questa capacità. Hanno spento tutto quello che non era loro. Quindi hanno pagato, hanno noleggiato di fatto la capacità computazionale nel momento in cui gli serviva. Se avessero fatto alla vecchia maniera, avrebbero comprato un altro tier di server messi lì e il giorno dopo non gli sarebbero più serviti. Questo a meno che ritardino tutti i film, ma questo non lo so. Che cosa abbiamo imparato fino adesso? Ribadiamo, ribadiamo un po' di concetti. Il primo è che OpenStack non è virtualizzazione classica. Penso di avervelo detto talmente tante volte che mi sognerete questa notte. Speriamo, non lo so. Il secondo punto è che OpenStack e le piattaforme alternative come VMware possono coesistere. Perché nessuno mi vieta di agganciare gli hypervisor ESX ai nodi computer attraverso gli aposi di driver e pilotare tutto da un'unica interfaccia e fare anche scambio di immagini, scambio di oggetti tra l'una e l'altra. Quindi non sono nemici, possono essere amici ognuno usato nel modo giusto. Per sfruttarlo ci sono una serie di passaggi che dobbiamo fare. Perché non possiamo prenderlo e d'amblè metterci le nostre applicazioni tradizionali. È necessario intanto acquisire delle nuove competenze interne. Noi siamo abituati a una parcellizzazione fortissima delle competenze nelle aziende. Chi è esperto di storage, chi è esperto di network, chi è esperto di levervisor, chi è esperto di sicurezza e quando deployate un'applicazione o dovrete lanciare una nuova piattaforma, ve la vedete col signore. Perché chi va configurato alla rete si scorda le regole firewall e poi quelle non fanno parlare gli storage tra di loro, eccetera, eccetera, eccetera. Qua bisognerà cambiare approccio. Infatti, una delle cose che cito sono i processi di gestione. Pensare di adottare questa nuova tecnologia, questo nuovo modo di fare, con i vecchi processi, con i moduli cartacei da fermare per richiedere un volume sulla storage della network. Non andate da nessuna parte. Ci sono tanti casi di successo su OpenStack, ma a me la cosa che è piaciuta sempre di più sono stati i casi di fallimento. Perché hanno tante cose in comune. Hanno tante cavolate, tutte simili tra di loro. La prima è il mantenere l'approccio tradizionale. La seconda è stata quella di portare applicazioni inadatte sulla piattaforma. Si sono schiantati malamente e hanno detto, basta, OpenStack lo tolgo perché fa schifo. Senza pensare che in realtà stavano guidando l'automobile con le redini, come si faceva un tempo con la carrozza. Certo che viene è complicato guidare la macchina. È normale, hai sbagliato modo, hai sbagliato candeggio come dicevano in una pubblicità. Terzo punto da adattare sono le applicazioni. Diciamo che l'ideale, piuttosto che mettersi a riadattare tutto il mondo pregresso, è che la nuova release dell'applicazione, le nuove applicazioni possano essere scritte già in quell'ottica. Così potrete trarre tutti i benefici possibili di quella piattaforma. Certo, poi possiamo anche pensare di riadattare delle vecchie applicazioni, nessuno ce la vieta. Probabilmente non è il metodo migliore. Diciamo che io adesso e Daniele nel pomeriggio siamo bravissimi. Vi abbiamo intortato, vi convinciamo ad andare a tornare a casa vostra e mettere OpenStack a casa. Cosa dovreste fare per provarlo? La prima cosa è scegliere una distribuzione. Ne esistono tante distribuzioni. Noi oggi vi presenteremo Oracle OpenStack, che si basa su una certa release dell'OpenStack upstream, quindi della versione comunitaria. Include dei moduli certificati, altri non li include, ma ce ne sono altre distribuzioni. Dovete scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Dopodiché dovete creare un team, un team con competenze diversificate. Chi capisce di virtualizzazione, storage, network, sicurezza, eccetera, eccetera. E fare in modo che queste competenze vengano messe a fattor comune. Perché? Perché su OpenStack non ci sarà più quella parcellizzazione mostruosa. Un solo amministratore potrebbe lanciare tutto e quindi è bene che vengano messe, a fattor comune a queste competenze. Terzo punto, identificare la o le applicazioni che volete portare. Quelle più adatte. Non vi dico di portare SAP lì sopra, non dico di portare la piattaforma di posta elettronica, Exchange Server, sarebbe un suicidio. Ma magari le applicazioni che stanno sulla vostra area web, potrebbe essere anche un sito di commerce, quello che vi pare, possono girare qua sopra con più o meno degli adattamenti. In alcuni casi, banalissimi, in altri un po' più corposi. Oppure potreste decidere che il nuovo progetto, la nuova applicazione, lo potete fare direttamente in quest'ottica. Quarto punto, avviare un pilot. Non vi parlo di un proof of concept dove si va ad andare a vedere sul campo come funziona una certa cosa in un caso specifico. Ma avviare un pilota, quindi scontrarvi, sbattere il muso su questa nuova piattaforma. Se vi ricordate, quando siamo passati dai server tradizionali, hardware, alle piattaforme virtualizzate, all'inizio abbiamo fatto una quantità di cavolate mostruose. Sono stati fatti errori, certe cose le abbiamo imparate, le piattaforme si sono evolute nel corso del tempo, un po' sopperendo a quegli errori, un po' offrendo noi funzionalità. Questo è un altro cambio generazionale, quindi voi non potete pensare che dall'oggi a domani sarà tutto magicamente risolto. Ci vorrà del tempo e l'unico modo è testarlo sul campo. Nessun corso di formazione sarà sufficiente. Vediamo un esempio di chi ce l'ha fatta. Vi ho parlato degli errori che hanno fatto e chi non ce l'ha fatta. C'è un signore, forse lo conoscerete, Paypal gestisce 4 transazioni più o meno l'anno, ha detto qualcosa anche Marco. Loro hanno concluso circa un anno fa un processo di migrazione, ma in realtà è di riadattamento, migrazione non mi piace come termine. E hanno iniziato a usare OpenStack in maniera pesante. Vediamo un po' di numeri per capire di che stiamo parlando, sempre per farvi notare che quei progettini open source da laboratorio, da fricchettoni, da gente anticonformista non sono esattamente così come li dipingono. Hanno messo più di 3 anni per fare questo progetto. Hanno iniziato quindi da una versione di OpenStack che era molto meno matura di quella attuale. Pensate quante difficoltà hanno dovuto affrontare. Hanno migrato più di 4.000 server e questo è solo l'area Paypal. Tutto il gruppo Ebay ne ha migrato tipo 12.000, server di sotto 6 commodity, quindi dal serveraccio scassone vecchio fino a quello magari più performante e recente. Un po' di tutto. Il loro slot target era a 6.9. Prima il buon Marco vi ha parlato dei 5.9 che raggiunge Maesco del cluster. 5.9 sono 5 minuti e 30 secondi in un anno di disservizio. 5 minuti e 30. Sia esso programmato o non programmato, indifferente. 6.9 sono 36 secondi, mi pare. Voi fate uno sternuto, vi soffiate il naso, finito. Da qui alla fine anno non fate più disservizi. Quindi pensate, è roba che funziona questa, non sono scherzi. Il 100% delle applicazioni web sono state migrate su OpenStack e l'hypervisor più utilizzato è QVM. Un po' perché è quello di default, un po' perché è quello più performante. Loro provenivano principalmente da VMware, che non è stata abbandonata, ha ancora un ruolo all'interno dell'infrastruttura. La usano principalmente per tutto ciò che ha un workload di tipo tradizionale. Siamo tornati a bomba, come vedete. Chi c'è già passato l'ha capita sta cosa qua. Ogni cosa deve girare nel posto giusto. Per trasportare i mattoni usereste un camion, per trasportare la famiglia usereste una station wagon, una monovolume, quello che volete. E non viceversa, a meno che magari vivete in un paese in cui il camion lo usate per tutto o viceversa. Quindi questo è il tipo di approccio giusto. Secondo un portavoce di PayPal, tutto questo bagno di sangue di tre anni è stato fatto per guadagnare in agilità, in elasticità e magari ridurre anche i costi. E tutta questa roba funziona. Non so quanti di voi utilizzano PayPal abitualmente, io non ho mai avuto un disservizio, mai, da che ho iniziato a usarlo durante questa migrazione e oggi che stanno già su OpenStack. Stavo fortunato io, non lo so, qualcuno di voi ha mai avuto un disservizio? Funziona. Concludo e poi vi libero per il pranzo. A quel punto poi vi sarà Daniele a monopolizzarvi il pomeriggio. Noi come sistema integrato, come Oracle e Google Partner, offriamo vari tipi di servizi, sia sul mondo OpenStack e in particolare quello Oracle, sia su MySQL, la community, ma ovviamente all'interprise di vita. OpenStack, come vi ho detto, può fare paura, può fare paura perché ci sono tante competenze da acquisire, tante cose da fare. Noi stiamo supportando anche uno dei principali service provider in Italia ad adottare OpenStack. Che tipo di lavoro stiamo facendo? Lo stiamo aiutando sia nella fase pre-adozione, quindi aiutando ad acquisire la mentalità giusta, a identificare le applicazioni, a identificare il team, a capire tutti i pro e contro, gli stiamo aiutando a fare il deployment di queste piattaforme nel loro ambiente di produzione. Ovviamente si parla di un'isola che pian piano crescerà. Stiamo già pensando ad alcuni servizi che andranno messi a un top a OpenStack e stiamo pensando a come integrarlo alle loro piattaforme preesistenti, dalla fatturazione, il delivery, il support, le operations e così via. Dopodiché, una volta completato il progetto, gli aiuteremo nella manutenzione ordinaria della piattaforma. Perché poi è bellissimo OpenStack, ma non è che è camperata solo tutta la vita. Avrà bisogno di essere gestito. Per quanto riguarda MySQL, abbiamo da tempo avviato una campagna per spingere i clienti che ancora non l'hanno fatto ad adottare l'enterprise edition. Perché l'enterprise edition è bella? Ve l'ha detto Marco. Non ve lo ridico un'altra volta. Farete un altro evento e ve lo ridiranno. E ve lo ridirà anche Luca. Peggio per voi. Io non ve lo dirò. Vi dico quali sono le offerte che abbiamo pensato. La prima è l'Adoption Pack. È un bundle che include una licenza MySQL Enterprise Edition a un prezzo scontato e un pacchetto di servizi professionali nostri che vi aiutano a fare il primo setup e a renderla operativa. Se invece già avete una piattaforma alternativa o provenite dalla Community Edition, potete usare il Migration Pack che include sempre un bundle con la licenza a un prezzo vantaggioso e dei servizi professionali a delle tariffe personalizzate. Si parte da un assessment per capire qual è lo scenario, quali sono gli obiettivi della migrazione e poi la realizzazione della migrazione stessa. In associazione a questi due pacchetti c'è il Support Pack che può includere sia i servizi di supporto on-site, da remoto, anche H24 volendo, in base alle vostre esigenze, ai vostri SLA, al tipo di applicazioni che girano su MySQL e i servizi di formazione, sia semplicemente per formare il vostro personale nella gestione, nella funzione di MySQL, sia propedeutici ai percorsi di certificazione ufficiali Oracle. Quindi vi invito a vedere le brochure, i flyer che trovate dentro il package che vi abbiamo dato. Siamo qua durante tutto l'evento, ci riconoscerete dalla camicia con il logo. Se non riuscite a parlarci qua potete contattarci quando volete. E a questo punto io vi auguro buon pranzo e buon divertimento dopo con Daniele.